Università degli Studi dell'Aquila, Sport e Salute Abruzzo e Comitato Italiano Paralimpico insieme per un convegno su sport, disabilità e donna. L'evento è in programma il prossimo 8 marzo, data non casuale quella della giornata internazionale della donna, negli spazi dell'Aula Magna Alessandro Clementi del Dipartimento Universitario Aquilano di Scienze Umane, con inizio a partire dalle ore 17. Al convegno è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione, ospitata al Rettorato dell'Università dell'Aquila, parteciperanno tra le altre la medagliata paralimpica Paola Protopapa e la campionessa mondiale di apnea categoria disabili Ilenia Colanero. Sull'appuntamento dell'8 marzo le dichiarazioni di Maria Giulia Vinci Guerra, docente di metodi e didattiche delle attività sportive alla DISCAB. Si tratta del Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche Applicate Biotecnologie, che ha curato l'organizzazione del convegno sport, disabilità e donna. Ci sembrava giusto coniugare questi tre aspetti che poi vanno a cadere sugli obiettivi, che sono quelli di inclusione, di parità di genere, di rispetto, che noi come Ateneo perseguiamo ormai da diverso tempo e cerchiamo di adeguarli a quelli che sono i goal dell'Agenda 2030. È un convegno che sigla una convenzione importante avvenuta proprio in questi giorni tra questo ente governativo, Sport e Salute, e l'Ateneo Aquilano. Per cui con Sport e Salute abbiamo appunto creato questo evento concordandolo e riferendoci appunto a un mondo di persone che forse in qualche modo hanno maggiori fragilità. E l'accordo con Sport e Salute ci consentirà di portare avanti programmi interessanti sia di ricerca che di sviluppo proprio di temi importanti come l'inclusione, lo sport a tutti i livelli, nelle persone più fragili, anche nelle persone disagiate, disadattate. Insomma è un progetto sicuramente importante e che ci darà forza e valore in quello che faremo. Grazie a tutti.